Allora, riscriviamo velocemente alcune delle condizioni, alcune dei modi per caratterizzare un campo irrotazionale, quindi è molto importante, lo chiederò agli orari, quindi restrizione 1 quella da cui siamo partiti è che presi A e due punti, qualsiasi A e B e l'integrale quel bilinio da A a B lungo una curva, in realtà non dipende dalla curva, quindi da una curva 1, è sostanzialmente uguale a A e B, V protoscala da R lungo un'altra curva, quindi non dipende dalla curva, va bene? Quindi non dipende dalla curva, poi abbiamo dimostrato che equivalente è questo, equivalente nel senso che la 1 implica la 2, ma la 2 implica anche la 1, è che preso curva chiuse, ovvero un circuito qualsiasi, preso una curva di circuito qualsiasi, che l'integrale è curvilineo lungo la curva chiusa, che si indica così, quindi non ha gli estremi ma un cerchietto, però dovete specificare la curva, di nuovo non F ma V, sto facendo un una curva chiusa qualsiasi, la circuitazione è 0, quindi circuitazione, poi abbiamo dimostrato che la 1 implica la 3, e la 3 è questa, che esiste una funzione scalare, chiamiamola phi, quindi phi è una funzione scalare, anzi metto phi xy, xy, z, funzione scalare, che è un numero, tale che il campo vettoriale è uguale a meno il gradiente di phi, oppure ho la stessa cosa, quindi questo è equivalente a dire che la phi, chiamiamola così, facciamo che l'integrale da A a V di V prodotto scalare da R, lungo una qualsiasi curva, perchè ormai l'ipotesi è irrotazionale, quindi non ho più bisogno di specificare la curva, non scrivo più parentesi C, e questo è uguale a phi di A, phi di B, meno phi di A. Questo segno meno non lo mettiamo per il momento, questo lo lo lasciamo per i fisici, il primo momento sto facendo la schiera matematica, poi nelle forze conservative si esplicita il segno meno, lo dirò dopo. Ovviamente ricordate cos'è il gradiente, quindi promenoria che il gradiente di phi è uguale a un vettore che si chiama per l'appunto gradiente di phi è un vettore che ha una parte nella direzione x, ha una parte nella direzione y e una parte nella direzione z la parte nella direzione x è la derivata parziale di phi rispetto a x, la parte nella direzione y è la derivata parziale di phi rispetto a y e la parte nella direzione y è z e la derivata di phi rispetto a z, e dovete ricordarvi cos'è la derivata parziale. Quindi la 1 implica la 3, poi magari il guaio è che sto andando troppo veloce per l'autogruppo, cioè l'autogruppo ha avuto più interruzioni di didattica e quindi la differenza tra quello che faccio voi e quello che sto facendo adesso loro sta crescendo quindi preferisco fare dei ripassi piuttosto di mettere nuova carne al fuoco Io intendo mostrarvi, magari su pomeriggio, che la 3 implica la 1 che avere una funzione phi tale che sia legata alla v in questo modo implica che la v è irrotazionale nel senso della 1 Quindi quando dimostrerò che la 3 implica la 1, allora questi saranno equivalenti tra loro Una qualsiasi può essere presa come la definizione se volete C'è un altro che voglio introdurre già adesso perché lo introduco in maniera abbastanza nozionistica però lo useremo pesantemente nel corso E nasce un po' da questo problema qua Immaginate di avere questi due campi vettoriali Li abbiamo disegnati ieri, volato ieri Cosa avete fatto ieri? Avete svegliato? Si vede che il disastro sociale non era così forte ancora perché quando c'è il disastro sociale la gente si impegna perché non vuole precipitare il buco nero della disperazione Allora studia, va al mare Avete disegnato il campo vettoriale? Shhh! Avete disegnato il campo vettoriale? Shhh! E uno si chiede, come faccio a sapere se un campo vettoriale che qualcuno mi dà così è conservativo o no? O è irrotazionale o no? Come faccio? Devo disegnare le frecce e cominciare a grattare la testa e immaginare di fare tanti percorsi e scegliere un percorso arbitrario? Per esempio, di nuovo, com'era il disegno di questo? Rapidamente, perché credo che sia comunque una buona occasione per ricordare quelle cose Questo diceva che il vettore era nella direzione x quindi sono tante frecce che vanno nella direzione x o anti x e vanno di là in proporzione al valore x quindi quando x è 0 non ho alcuna forza tutti questi punti non hanno nessuna freccia quando mi trovo su questi punti qua avrò delle frecce che sono così quando mi trovo a distanza doppio avrò delle frecce che sono doppie e qua, analogamente, avete delle frecce così e delle frecce così provate ad immaginare andare da un punto A a un punto B e chiedermi se il percorso che voi scegliete per andare da A a B se voi andate così sarà uguale che andare, che so lungo una curva di forma strana Secondo voi? Andare in questo modo oppure andare così verrà fuori lo stesso valore? verrà fuori lo stesso valore? si si che verrà fuori lo stesso non fatevi indagare del fatto che le frecce qua hanno modi diversi pensateci un attimo vi lascio a voi convincere e se le frecce fossero così? com'è la situazione? qua avevo le frecce zero su questi punti ma questo punto aveva una freccia così questo punto che aveva una Y doppia aveva una freccia doppia questo che è Y terzo era così questo punto era così questo punto era così questo punto era così e come anche questo punto dovete immaginare e in questo caso? forse il modo migliore per pensare avendo un disegno di frecce se è conservativo se è rotazionale o no è pensare ai percorsi chiusi no? la seconda definizione che è conservativo se la circuitazione è sempre zero allora perché è più semplice? perché guardate immaginate una curva chiusa basta trovarne una chiusa dove non è zero che non è un campo irrotazionale no? perché la seconda definizione dice qualsiasi curva chiusa deve essere zero la circuitazione quindi basta che ne trovate uno che non lo sia certo che se ne trovate uno che è zero non basta perché deve essere qualsiasi ma basta trovarne uno che non lo sia che è certo che non è irrotazionale pensate a questa curva qua che parte da questo punto va fino a qui poi va qua poi va qua e poi va qua quindi va dal punto A, B, C, D in questo modo guardate spostandomi da A a B con spostamenti dr in questa direzione in questa direzione ho un prodotto scalare tra la forza perché le forze sono queste verdi ok? la forza la freccia verde e la freccia bianca sono paralleli quindi il prodotto scalare è positivo quando arrivo a B ho accumulato un numero positivo quando vado da B a C i vettori di spostamento sono così ma la freccia e le forze sono così quindi sono a 90 gradi quindi andando da B a C ho zero non c'è un contributo nuovo nella mia sommatoria tutti gli spostamenti da B a C mi danno proprio di scalare nulli quando vado da C quando vado in questa direzione le frecce verdi sono in che direzione? sono per di qua no? perché ho la Y negativa quando la Y è positiva la freccia verde va a destra quando la Y è negativa la freccia va a sinistra quindi vedete che quando io vado da C a D di nuovo ho il parallelismo tra lo spostamento e la freccia verde è la freccia del campo quindi da C a D ho di nuovo prodotti scalari positivi quindi positivo andando di qua zero andando di qua positivo di qua zero di qua risultato netto positivo non è irrotazionale invece questa pensateci qua andate in questa direzione siccome le frecce sono andando da qua a qua le frecce sono verso sinistra quindi ho un valore negativo ma quando vado al di là di qua perché questo dipende da X quando ho X positivo le frecce sono nella direzione dello spostamento e quindi il valore negativo che avevo di qua viene perfettamente compensato dallo spostamento di qua qua in questo spostamento non ho nessun contributo qua succede qualcosa simmetrico e quindi qua l'integrale lungo un percorso chiuso è zero qualsiasi curva chiusa convincetevi che qualsiasi curva chiusa che qualsiasi curva chiusa vi darà sempre zero convincetevi che basta una curva quella rossa che non sarà zero quindi questo non è rotazionale ok? non è irrotazionale questo è un approccio ma potete immaginare che supponete che il campo vettoriale abbia le frecce disposte in maniera strana non so, abbia una... in questo punto la freccia è così in questo punto è così in questo punto è così in questo punto è così avete una ricetta che vi da le frecce e voi ne disegniate alcune guardate le frecce e dite boh come faccio a sapere che questo è un campo irrotazionale? guardando solo qualche freccia non è certamente quella la strada c'è uno strumento molto potente che useremo nel corso che si chiama il rotore ed è questo oggetto qua a me piace usarlo perchè è uno strumento potentissimo ma è anche un nuovo un ripasso di tante cose quindi c'è una quarta definizione che è equivalente alle tre un altro modo per dire che un campo vettoriale è irrotazionale V è irrotazionale se il suo rotore è 0 se il suo rotore è 0 nullo è sempre nullo ovunque forse la parola sempre non è è ovunque nullo cos'è il rotore? il rotore si scrive così c'è l'operatore Nabla cos'è Nabla? Nabla che è chiamato anche tra amici l'operatore gradiente Nabla cos'è? è un operatore vettoriale è un operatore differenziale cioè un operatore di derivate ma nel senso vettoriale del termine nella direzione x c'è l'operatore derivato del termine x di nuovo questo è sul power point potrei non dire nulla e dite andate a vederlo per cortesia state in silenzio il rotore è questo oggetto qua quello è il prodotto vettoriale ed è il seguente oggetto si sta strozzando qualcuno sa la mossa di Heimlich? poi fate nelle scuole superiori di pronto soccorso? secondo me dovrebbe essere obbligatorio cioè potete salvare la vita della persona? quindi se lo stramazzo al suolo nessuno sa fai niente? questo è il rotore in coordinate cartesiane in coordinate cartesiane questo è il rotore è un oggetto che adesso espanderemo però lo espanderemo proprio con le regolette che già da un po' di tempo abbiamo visto col prodotto vettore cioè fate il prodotto vettore tra l'operatore Nabla pensata come se fosse un vettore e il campo v ok? lo fate in un punto adesso vi spiego questo lo espandiamo no? questo oggetto avrà il rotore che nei vecchi testi prima dell'invenzione di questa notazione veniva scritto così rot rot v questa è la vecchia definizione la vecchia scrittura rot o rotore il rot v cos'è? è un altro vettore cioè il rotore di un vettore è un vettore il rotore di un vettore è un vettore quale vettore? è un vettore quindi dovete specificare quanta parte è nella direzione x quanta parte è nella direzione y quanta parte è nella direzione z il modo per saperlo che vi consiglio di usare anzi obbligatorio dovete saperlo e dovete espandere con la famosa regola di Kramer questo oggetto che dovete saperlo manipolare perchè l'abbiamo già fatto un mese fa quindi questo sono tre pezzi avete una componente nella direzione x avete una componente nella direzione y e avete una componente nella direzione z qual'è la componente nella direzione x? voi fate così e vedete dovete valutare in maniera formale il determinante di questa sottomatrice cioè dovete fare questo che si applica su questo meno questo che si applica su questo quindi la derivata parziale di vz rispetto a y meno questo che è applicato a questo quindi la derivata parziale di vz rispetto alla coordinata z ok? quindi è questo operatore che viene applicato a questo vettore a questa funzione meno questo operatore applicato a questa funzione questa è la componente x ok? è chiaro che il rotore è un vettore ma è un vettore che è un campo vettoriale esso stesso perché dipende dal punto no? dove siete? c'è questo rotore qua il rotore esso stesso dipende dalla x,y,z dove siete perché le derivate parziali dipendono da dove siete in quale punto siete? il valore di questo dipende dal punto x,y,z dove siete questo dipende dal punto quindi quello che sto scrivendo dipende dal punto cambiate punto e le derivate parziali saranno diverse quindi il rotore è diverso qual è la componente y del rotore? allora dovete guardare quello che sopravvive a coprire la prima riga e la seconda colonna e vedete che dovete fare questo applicato a questo meno questo applicato a questo quindi con molta pazienza io non le so nemmo me ne cavo quindi ho questo applicato a questo quindi la derivata di vx rispetto a z meno la derivata una volta che ne avete scritto uno l'altro è facile solo scambiare i pedici no? quindi questo diventa vz rispetto a x ok questo applicato poi quando avete finito di scrivere non dovete subito mi dica c'è un errore di stampa? cioè la derivata parziale quella è derivata parziale di vz faccia controllare da me perchè non ho capito lei non sta a spiegare bene non so dove sto devo guardare fuochino? la quella prima la si dov'è l'errore? la deve essere vz la non volito non volito scatti no no è giusto invece perchè c'è il famoso segno meno non c'è la regoletta di Kamer con meno 1 alla i più j? giusto? ho ragione o ho torto? però grazie no no ma grazie perchè vuol dire che lei sta seguendo perchè lei ha cercato di pensare in anticipo e ha visto che era in disaccordo con me e ha sollevato la mano bravo un applauso no è proprio così che bisogna fare cioè lui si è accorto di un errore poi è un errore di aver pensato di aver trovato un errore ma si è accorto perchè si stava applicando eh? quindi di nuovo una volta che avete scritto guardate la prima cosa da guardare è guardare i pedici no? nella componente x come nel modo di fare un altro vettore non ci devono essere per quello che concerne la componente x della componente x del rotore non ci devono essere i pedici x giusto? ho sbagliato se vedo qua sotto una x da qualche parte ho sbagliato se vedo una y qua sotto ho sbagliato se vedo una z non c'è la x bene il primo test è positivo poi non devo vedere vedete che se c'è la z sopra la y deve essere sotto poi però devo averlo scambiato con la y e la z con un segno relativo tra loro ma chi è il positivo? è la che uno deve guardare e pensare alla regola di Kramer eccetera mi pare che sia giusto, va bene? ok? allora applicamolo a questi due campi coraggio verifichiamo che il rotore di questo è 0 allora io cosa devo fare? quindi il rot di questo signore qui tra qua cosa scrivo? scrivo le componenti di Nabla dell'operatore gradiente quindi uso una notazione semplice così risparmio un po' di gesso questa notazione qua cos'è? vai usiamo la notazione in maniera un po' sportiva chiaro che uno potrebbe chiedere ma cos'è questa roba? è questo è perché lo usa? perché sono pigro questa è la derivata speciale rispetto ad x questi qua sono le componenti dell'operatore Nabla poi scrivo le componenti di v quali sono le componenti di v? guardatela qual'è la componente x? qual'è la componente y? qual'è la componente z? non ha una componente y non ha una componente z ha solo la componente x quindi scrivo qua la x qua è 0 allora fate il conto è evidente guardatela un attimo quando faccio la componente x ho la derivata rispetto a y da 0 a 0 meno la derivata rispetto a z quindi questo ha 0 nella direzione x nella direzione y quando faccio questo cosa ho? ho la derivata rispetto a x di 0 è 0 ho la derivata rispetto a z di a x questo dipende da z? no avete capito come funziona i derivati parziali? chi ha seguito il percorso? si forse quelli che non hanno seguito il percorso uno si chiede cosa stanno facendo deve essere chiaro? perché evidentemente non mi sembra che sia chiaro perché la derivata rispetto a z di questo è 0? perché questo non dipende da z e la derivata rispetto a e la componente u di x cos'è? u di z la derivata rispetto a x di 0 è 0 e la derivata rispetto a y di ax questo non dipende da y che è un filo è 0 quindi il rotore di questo campo vettorale è il vettore nullo attenzione questo è il vettore nullo è una freccia non è nullo non è un numero è il vettore nullo quindi questo è il vettore nullo questo è un campo irrotazionale il rotore è 0 quando è che un campo vettoriale è irrotazionale? quando non ha rotore irrotazionale quel ir non rotazionale e per la matematica rotazionale vuol dire che ha un rotore se il rotore è nullo è irrotazionale questo qua coraggio cosa cambia? guardate guardate com'è fatta qual'è la componente x? qual'è la componente y? qual'è la componente z? di nuovo questo non ha il componente x y e non ha la componente z quindi qua metto 0 qua metto 0 qua metto 0 e qua metto la componente x che è y e quindi di nuovo qual'è la componente x del rotore? ho questo che si applica su questo derivata parziale rispetto alla y di 0 è 0 la derivata rispetto alla z di 0 è 0 quindi questo ovviamente è 0 nella direzione x nella direzione y come siamo? ho la derivata rispetto a x di 0 è 0 e la derivata rispetto a z di ay che non dipende da z è 0 cosa succede nella direzione z? la derivata rispetto a x di 0 è 0 la derivata rispetto a y di ay non è 0 non è 0 il rotore è diverso dal vettore nullo quel campo lì è rotazionale si dice cioè ha un rotore diverso da 0 quindi il rotazionale vuol dire che ha un rotore nullo è rotazionale invece quando il rotore è diverso dal vettore nullo ovviamente dire che è rotazionale è molto pericoloso perché il rotazionale è rotazionale basta quel piccolo bir che uno prendendo punti magari non lo nota quindi hanno inventato una parola nuova ok? quindi si dice certo si può dire che è rotazionale è italiano questo no? il rotazionale non lo è rotazionale lo è ma c'è una parola che si usa proprio per evitare di confondere le due parole se uno prende punti a pallavoce e si dice molto per la parola strana però la giustificazione viene dalla fisica si dice che è solenoidale e la base qua è il solenoide eh? solenoide perché solenoidale è così diverso dal rotazionale che non c'è il rischio di confondere lì d'accordo? eh? domanda esercizio da scritto questo è solenoidale o rotazionale? calcolate il rotore fatelo mentre io c'ero la lavagna coraggio quindi mi raccomando quando fate una derivata parziale rispetto a una variabile che è x dovete pensare alle y e alla z come se fossero costanti no? in una derivata parziale rispetto a x cosa facevate? facevate un rapporto incrementale dove variavate solo la x lasciando stare le y e la z e poi facevate il limite per delta x che tende a 0 quindi nella derivata parziale rispetto a x dovete pensare alla y e alla z come se fossero costanti e quindi applicare le regole di derivate che conoscete già da un po' di tempo provate a farlo allora qual'è la componente x qual'è la componente y? ovviamente questo ha 0 nella direzione z una cosa che merita essere detto nella prima quello che abbiamo appena fatto guardate un attimo ripeto di non aver fatto questo commento ma non voglio perdere l'opportunità qual'era il grafico? era questo? shhh eccetera 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 ok? era questo il grafico il rotore questo è l'asse x questo è l'asse y e z esce dalla lavagna il rotore è perpendicolare alla lavagna va bene? guardate il rotore è perpendicolare alla lavagna ok? va bene? fate questo, coraggio! e chiedetevi è soleno edale o? e rotazionale calma Cos'è questo di nuovo? Sto facendo la componente z perchè ci siamo convinti che la componente x,y è 0 La componente z, guardatela, questo applicato a questo, quanto vale? B, questo applicato a questo, forse questo era un segno meno, giusto? Quindi il rotore perpendicolare alla lavagna ma entrava nella lavagna Entrava nella lavagna E quindi la conclusione è? È il rotazionale o il rotazionale? Pensate, contate e pensate, metto il cervello usatelo Dipende, dipende, è il rotazionale se B è uguale a? Dipende, una delle grandi cose del pensiero scientifico è che dipende Quindi, guardate un po' di tempo, se qualcuno vi chiede una domanda E voi dite, dipende! E poi pensate, dipende, dipende delle cose Dipende, quindi quando B è uguale ad A, avete che è il rotazionale E quando B è diverso da A, è solo il mediale Che aspetto ha questo grafico qua? Qualcuno riuscirebbe a disegnarlo? Che aspetto ha? Sapreste, questo è un tipico scritto, no? Sapreste disegnare questo? Visto che B deve essere uguale ad A Fate questo Sapete disegnarlo? Fate qualche disegno, qualche freccia, per convincervi Se volete, questa è la somma di due grafici, no? Uno è questo qui E un altro questo qui Se questo è l'asse X, questo è l'asse Y Questo l'abbiamo disegnato prima, no? Quindi avete che la, cos'era? Dipende da Y, quindi il grafico è questo qui Freccia, freccia doppia, freccia tripla, freccia Quante volte lo devo disegnare questo? Freccia doppia, freccia tripla Questo è questo qui Questo che aspetto ha? Queste frecce sono nella direzione X Queste frecce sono nella direzione Y E queste frecce vanno verso l'alto quando X è positivo E vanno verso il basso quando X è negativo Quindi quando sono qui ho una freccia Quando X è positivo ho una freccia verso l'alto Questa è una X doppia, una freccia così Questa è una X tripla, una freccia così Questa è una X negativa e così E ovviamente tutti i punti, no? Questa ha un rotore entrante Cosa che abbiamo appena calcolato, no? Il rotore di questo era meno A O di Z Cosa sarà il rotore di questo secondo voi? Verificatelo, verificatelo per cortesia Il rotore di questo, chiamiamo questo V1 Il campo vettoriale 1 e questo è il campo vettoriale 2 Quindi la V è la somma di due campi ultrali Questa è la V1 e questa immaginate sia la V2 Quale sarà secondo voi il rotore? Fate conto e vedete che è BQZ Infatti il rotore di V Perchè questo passaggio che sto facendo Vi chiedo di verificarlo Che il rotore è un operatore lineare Perchè questo è uguale Questo è uguale Cosa vuol dire che è lineare? Verificate questo Verifica, 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 verifica Linearità Verificatelo Cosa vuol dire? Che questo passaggio è legittimo Verificate che sia possibile Cioè che il rotore di questo Potete veramente scomporlo Come la somma dei due rotatori Allora Facciamo il caso che A e A siano uguali Ok? Che aspetto avrà il grafico? Quindi nel caso che B è uguale ad A Che aspetto avrà questo grafico? Cioè il grafico di Del vettore K vettoriale AY U di X Più A AX U di Y Cioè che è la stessa cosa che dire A Per il K vettoriale Fatto così Che aspetto avrà? Dovete fare la somma di queste frecce Quindi in questo punto per esempio In questo punto avete questa freccia In questo punto cos'è? Zero Quindi in questo punto avete questa freccia qua In questo punto qua E la freccia è zero no? Tutti i punti che hanno X uguale a zero Hanno frecce nulle Ma pensate a questo punto qui A un punto che sta Che ha X e Y uguali Questo punto qua come lo disegnerete? Se X e Y sono uguali Avete due frecce Una nella direzione X E una nella direzione Y Che sono uguali Quindi la freccia in questo punto È una freccia che è esattamente a 45 gradi Non vi pare? Perché è la somma di una freccia che è così Più una freccia che è così Ma a un punto che qua per esempio Facciamo un punto che ha lo stesso Y Ma ha tre volte la X Questo punto qua che aspetto ha la freccia? Ha la stessa Y Quindi ha la stessa Y E quindi la componente X di questa freccia È la stessa di questa No? Invece la componente Y avendo un 3X È tre volte questa Una, due, tre E quindi la freccia risultata è così Cioè lo scopo di questi giochetti è solo farvi capire Che si può specificare un campo vettoriale Dando le coordinate Datemi le coordinate E io vi dico che freccia disegnare Perché la freccia è specificata Una volta che conosco Y, Y, Z Quindi la freccia in questo punto Ha la stessa componente X Vedete che la componente X dipende da Y Invece la componente Y della freccia Dipende dalla coordinata X Quindi sfidate voi stessi sul vostro quaderno A disegnare la freccia di questo campo Cioè quando B e A sono uguali Quando la freccia è di quanti punti Di qua, qua, qua Disegnate alcune E provate, sfidatevi a riempire il quaderno Con un 4 o 5 frecce E chiedetevi Io ho capito? Va bene? Ok In questi pochi minuti che mi rimangono Voglio farvi un semplice teorema Che di nuovo fa parte del capire Come i vari modi per descrivere un campo Irotazionale si equivalgono in un certo modo Questa è una cosa che chiedo molto spesso Per avere un 21 o un 22 Se vi accontentate di un 18 potete addormentarvi Supponete che avete un campo vettoriale Che è il gradiente di un campo scalare Cioè è un campo irrotazionale Io vi devo convincere che se questo è vero Allora l'integrale quel bilineo da A, B di V in R Non dipende oppure che la circolta sia zero Vi devo convincere di questo Ma adesso voglio convincerevi che se il campo è così Il suo rotore Se questo ha la pretesa di essere un campo irrotazionale Cioè se vi convinco che questo implica questo Quindi è un campo irrotazionale Quanto vale il rotore di un campo così? Per essere irrotazionale deve essere zero Quindi io voglio convincervi che questo è vero Cerniamo intanto con la volontà Un po' di spazio Meglio scrivere per esteso finchè la gente non ha capito Poi una volta che ha capito possiamo magari usare una notazione più snella Qua qual è la componente x, y, z di questo vettore? La componente x è la parte x del gradiente Quindi è la derivata di phi rispetto a x Sto dicendo sia v il gradiente di un'opportuna phi Di un campo scavare Quindi la componente x è questo qua Quindi dobbiamo valutare con molta pazienza Io vi farò solo il primo La prima componente Perché i più svegli di voi Saranno capacissimi di completare il conto da soli Anzi i più svegli non faranno almeno il conto Perché capiranno che è ovvio che è zero anche per le altre componenti Quelli che magari sono meno sicuri di sé con la matematica Dovranno magari fare passaggi per esteso Ma basta che io vi spieghi come funziona la prima componente E che dovreste vedere come funziona con la componente z E la componente x, y Qual è la componente x? Devo prendere questo e applicarlo a questo Meno questo applicato a questo Meno questo applicato a questo E poi ci sarà la componente y E la componente z Quello che sto per fare qua Dovrei essere sicurale di farlo anche per quelli Quindi se vi convico che questo è zero Sarà facile convincere che questo sia zero Allora, usiamo un po' la notazione qua Una notazione che si è già familiare Quando noi facevamo per esempio Avevamo la coordinata x e ci facevamo la derivata rispetto al tempo Questa era la velocità L'accelerazione cos'era? Questa era la velocità L'accelerazione era la derivata della velocità rispetto al tempo E quindi a rigore uno fa la derivata rispetto al tempo Della derivata rispetto al tempo di x E per risparmiare gesso cosa facevamo? Usavamo la notazione che era così Si fa una cosa simile qua Questa è la derivata rispetto a y Della derivata di fi rispetto a z Cioè prima avete la fi La derivata rispetto a z Ottenete qualcosa E di quello fate la derivata rispetto a y Allora qua forse è il caso Uso la notazione Perché probabilmente sta per suonare l'ora E quindi devo andare veloce E riprenderò brevemente Questo lo scriviamo così La derivata seconda di fi Ok? Questa è la notazione che è un uso per risparmiare un po' di gesso Vedete che preservo Sto leggendo da destra verso sinistra Prima questo poi quello Prima questo poi quello Guardate questi due Cos'hanno di diverso? Sto derivando due volte la fi Prima rispetto a z E poi rispetto a y E questo è prima rispetto a y E poi rispetto a z Allora, vediamo se è scritto in poche parole Sia questa una funzione di x, y e z Che sono? A x quadro y alla cubo z Quali sono le derivate parziali? Allora la derivata parziale rispetto a x Cosa si fa? Si deriva pensando a y e z come costanti Quindi questo è 2a x y cubo z Qual è la derivata rispetto a y? Penso alla x e z come costanti Quindi 3a x al quadrato y al quadrato z Qual è la derivata di f rispetto a z? Derivo pensando alla y e alla a E alla x come costanti Quindi ho x quadro y cubo Molto facile Quali sono le derivate seconde? Beh, ho le derivate seconde Questa vedete è una funzione Questa è una funzione E posso derivare essa stessa Quindi posso fare la derivata Seconda di f rispetto agli x E questo ho fatto per fare un esercizio Penso alla y e alla z come costanti Quindi ho 2a y cubo z Ma posso derivare la derivata Questa funzione Posso derivarla anche rispetto a y Quindi faccio prima rispetto a x E poi rispetto a y Quindi devo derivare questo rispetto a y E quindi vedete che qua avrei Aiutatemi a non sbagliarmi Quindi avrei 6a x y al quadrato z Siete d'accordo? Ok? Guardate qua ho la derivata Seconda rispetto a y Potrei derivare un'altra volta Rispetto a y Perché non mi piace farlo E avrei uguale a Quindi qua avrei 6a x al quadrato y z E potrei derivare anche rispetto a y e z Che caldo Ho già derivato a y E voglio derivare rispetto a x Ok? Quindi qua penso rispetto a x Quindi penso a y Questo diventa 6a x y al quadrato z E se non ho sbagliato E non ho sbagliato Guardate qua Questa si chiama La derivata seconda mista Questa è la derivata seconda pura rispetto a x Certo che potrei fare anche Certo che potrei fare il discorso Ma questa è la derivata seconda pura Vedete che sto insistendo a derivare rispetto a x Questo invece sto derivando Prima rispetto a x e poi a y Quindi derivo due volte Ma rispetto a variabili diverse Quindi lo chiamo misto in quel senso Questo ho derivato prima rispetto a x e poi a y Questa è la derivata mista Seconda mista Ma avendo derivata prima rispetto a riduzione E poi rispetto a x E guardate come sono esattamente la stessa funzione E c'è un teorema di analisi Delle funzioni a più variabili Che si chiama il teorema di Schwarz Credo che si scriva così Non ho controllato prima di dire la lezione stamattina Credo che si scriva così Datemi due secondi per scrivere questo teorema Che controllate perché mi sono dimenticato di guardare Io ho una pessima memoria Di solito controllo prima di dire la lezione Dice che se la funzione ha più variabili Non è patologica nel senso dei matematici E' derivabile in tutte le direzioni E ci sono altre ipotesi Allora la derivata seconda mista Non dipende dall'ordine con cui derivate Ok? Non dipende dall'ordine Fate la derivata seconda mista Ma non dipende da quale iniziate Con quale iniziate derivare Quindi per il teorema di Schwarz Cosa concludete? Che questo è uguale a 0 Il teorema di Schwarz Quindi se questo è uguale a 0 Come sarà uguale a 0? Anche la componente y E anche la componente z Perché sia nella componente y Che nella componente z Avrete le derivate seconde Miste di quale variabile Quando fate la componente y Delle variabili x e z Qua quando fate la componente z Avrete le variabili x e y Ma avrete entrambi che appaiono La derivata mista così Dove è derivata prima rispetto a uno E poi l'altro meno E per Schwarz su 0 Quindi abbiamo appena visto Una cosa molto interessante Che è un campo Che è irrotazionale in questo senso E è irrotazionale così Quindi questi due modi Sono equivalenti tra di loro Manca ancora il passaggio Dove devo convincervi Che se questo è vero Allora questo è vero Ma vedete? Questo è un altro modo Per dire com'è un campo Ed è estremamente importante Quindi in generale Per parlare di campi di forze Un campo conservativo Cioè un campo irrotazionale È scritto come il gradiente Di un opportuno campo scartare Quindi ha rotore nullo Quindi campi irrotazionali Campi conservativi Possono essere descritti così O così È la stessa cosa Sono due modi Matematicamente equivalenti Della stessa cosa Ci vediamo alle due Qui ci vediamo alle due